ciao sono federica di taste of style ho cucinato un risotto alla milanese con lo chef bertone adesso mi sto già pentendo d'averlo faccio non è avuto pazienza da aspettare aspetta 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 devo immortalare l'attimo mentre assaggio sì perché non capita tutti i giorni e se vi è piaciuta la mia ricetta votatemi ciao sono cristina del blog contemporaneo food io ho cucinato una crema di patate porri con capesante saltate in padella mentre di pan taglieri sei sicuro sono sicura sì chef fidati non è che sei un po di parte se vi è piaciuta la ricetta e anche la puntata votatemi